Bel festival, eh? Sì, sì, un bel successo. La mia sindrome del tunnel carpale si è risvegliata. Ma tu non hai i tendini. Nemmeno tu hai una lingua. Ma non mi pare che ciò ti faccia stare zitto, giusto? Mi insegni a farlo? Beh, siccome sei un principiante, perché non ti alleni col primo esercizio? E sarebbe? Soffia! Boom! Ah, ne ho fatto scoppiare un altro. Stupide dita ossute! Devo andarmene. Questo rumore mi fa venire voglia di uccidere qualcuno. Anche a te?